invece dice di no, la pensano come voi onorevole Cicconi, i nostri telespettatori in questo momento, dati assolutamente non statistici né scientifici, benvenuto Movimento 5 Stelle. Per fortuna che i cittadini la pensano come il Movimento 5 Stelle, davanti a un governo che tutto quello che ha toccato, tutto quello che è fatto è stato disintegrato dalla Corte, dai tribunali e davanti a un fallimento evidente di una politica del governo Renzi, è chiaro che i cittadini vogliono andare al voto il prima possibile, darsi un nuovo governo scelto da loro finalmente e tornare in un paese che possa ricostruire e rinascere dalle macerie che sono state lasciate dal governo Renzi. Senatore Onorevole Cicconi, la vostra disponibilità eventuale potrebbe essere fattibile o no rispetto alle valutazioni che facevamo? Guardi, noi riteniamo che non c'è spazio in questa legislatura di poter fare nuove leggi elettorali con il Partito Democratico o con la maggioranza relativa che c'è in Parlamento, sono stati fatti troppi errori, rimettersi al tavolo, il tavolo che avevamo aperto e avevamo provato negli anni passati a fare una legge elettorale insieme al Partito Democratico e c'è stata chiusa la porta in faccia, noi in questo momento storico riteniamo che bisogna andare al voto subito, immediatamente, con le leggi che ci sono state date, se si vuole omogenizzare la legge che abbiamo alla Camera con la legge che c'è al Senato si può fare molto rapidamente con qualche piccolo emendamento che non occupa più di una o due settimane il Parlamento e si va al voto subito. Se noi ci dobbiamo mettere al tavolo a ragionare su una nuova legge con questi figuri è una cosa che non riteniamo né utile per il Paese e anche la disponibilità del Partito Democratico che oggi ci dice a parole e vuole andare a votare subito, io ritengo che quando ci troveremo in Parlamento questa cosa non avverrà, perché il partito del settembre 2016, ossia la data in cui i deputati e senatori riceveranno il cosiddetto vitalizio, è il partito più forte che attualmente c'è in Parlamento e loro a votare non ci vogliono andare. Lei dice vince il partito di chi appunto vuole arrivare a scadenza naturale della legislatura che sarebbe più forte, più numeroso, nel fondo di chi invece a votare ci vuole andare subito, anzi sentiamo, possiamo escluderlo, quando vi accusano invece, lo chiedo appunto all'esponente del Movimento 5 Stelle, di aver cambiato idea troppe volte, lo ripetiamo appunto, il Mattarellum, il Democratellum era uscito, il Proporzionale, adesso appunto l'Italicum però rivisto così, Beppe Grillo peraltro ha detto, lo aveva già detto prima della sentenza, il Legalicum, quindi l'Italicum che esce così modificato dalla sentenza della consulta. Guardi, ci sono stati in questi anni i momenti in cui si sono potute fare delle proposte, si è potuto discutere e cercare di portare a casa una legge elettorale per i cittadini che dal nostro punto di vista era la migliore possibile, poi il Partito Democratico si è voluto far l'Italicum, se l'è approvato con la fiducia dicendo che era la legge migliore del mondo, ce l'avrebbero copiato in tutta Europa, oggi quell'Italicum non c'è più. Io glielo dico subito al Senatore del Partito Democratico, noi non ci mettiamo al tavolo a discutere di una nuova legge elettorale e le chiacchiere che si fanno sul fatto che il Movimento 5 Stelle, la Lega o chi altri dica di voglia andare a voto subito e poi invece tira i remi in barca, è una discussione senza senso, perché questo Parlamento si regge su una maggioranza, una maggioranza del Partito Democratico, se vogliono andare al voto subito, come effettivamente vanno dicendo nelle televisioni e nei giornali, è sufficiente togliere la fiducia al Governo, Mattarella è costretto a sciogliere le Camere e andiamo al voto. Il Mattarellum non è qualsiasi altra legge che si voglia portare al cospetto del Parlamento e delle commissioni affari costituzionali, per noi è solo una perdita di tempo, perché significherebbe un rimpallo tra Camera e Senato di una discussione su una legge elettorale che fa soltanto perdere tempo a questo Paese che ha bisogno di tornare alle urne subito per darsi un Governo forte che sia in grado di governare adeguatamente il Paese. A proposito di elezioni, comunque la consulta, questa sentenza della consulta allunga, così ci introduce al prossimo argomento che è il Campidoglio e Virginia Raggi, allunga o no la vita della Sindaca in Campidoglio, in questo momento in cui c'è un'inchiesta aperta, come sappiamo un avviso di garanzia per abuso d'ufficio è falso, secondo lei? Diciamo che non credo che possa cambiare le cose un percorso della magistratura che valuterà le carte e il fatto e prenderà le decisioni in piena autonomia come sempre è fatto. Noi ovviamente siamo convinti che alla fine di questo percorso giudiziario Virginia Raggi non uscirà tranquillamente pulita e serena, è stata anche corretta nei confronti della cittadinanza e anche nei confronti del Movimento 5 Stelle a dichiarare subito quello che stava succedendo e eventualmente se dovessero aggravarsi la sua posizione immagino che avrà la stessa premura di farsi da parte e di aspettare che la magistratura faccia il suo corso. Non credo che gli aspetti di questa sentenza da consulta o altri aspetti politici a livello nazionale possano incidere nella vita della città. Lei dice che possano cambiare, anche se poi come sappiamo, non so, per esempio Pizzarotti a proposito di sindaci sarebbe tentato di fare un passo un po' diverso rispetto alla carriera politica che ha sempre iniziato con voi, sindaco di Parma poi è andato via, forse chissà, nel centro-sinistra, nel nuovo centro-sinistra, insomma c'è da capire quali saranno poi i prossimi passaggi anche per i personaggi chiave del vostro movimento, anche rispetto alla leadership a livello nazionale. Ma guardi che Pizzarotti o qualche altro esponente che faceva parte del Movimento 5 Stelle faccia altre scelte politiche, è legittimo, è libero di fare quello che meglio crede nella sua carriera, politica, visto che lui reputa che la sua sia una carriera politica, cosa che all'interno del Movimento 5 Stelle si scongiura. È anche vero che Roma è una città importante, è una città importante per l'Italia in quanto capitale, si abitano milioni di cittadini italiani ed è importante per il Movimento 5 Stelle ciò che avviene all'interno della capitale. Questo ovviamente incide relativamente sulla vita generale, nazionale del Movimento 5 Stelle. Virginia Raggi, come tanti altri esponenti, hanno dei ruoli importanti, sono amministratori locali e abbiamo un occhio di riguardo per gli amministratori locali del Movimento 5 Stelle. Peraltro c'è una che è l'Appendino che è in cima alla classifica delle preferenze degli italiani, invece la Raggi, come sappiamo, è penultima. Avete fatto delle valutazioni interne su questo o no? Guardi, ci sono delle differenze di città, Torino non è Roma, di grandezze e anche di difficoltà, ci sono degli amministratori, come in tutta Italia, che si trovano in una situazione agevolata e lavorano meglio, altri che si trovano in una macchina più difficile da gestire e ci mettono più tempo, però alla fine della conta riusciamo sempre all'interno delle città che amministriamo ad ottenere dei buoni risultati, a portare avanti un percorso che per il Movimento 5 Stelle è importante e anche per i cittadini è importante.